Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo con la cronaca. Sono 42 le denunce, tanti sono risultati essere i furbetti del reddito di cittadinanza. Secondo gli accertamenti effettuati dai carabinieri, queste persone lo percepivano illegittimamente. Una vasta platea di cittadini residenti per lo più nei comuni di Foiano della Chiana, ma anche Marciano, Cortona, Sinalunga, Terranova Bracciolini, Capolona, Montepulciano e Castelpiano. Tutti risultati essere in una posizione di irregolarità. Complessivamente tra il 2019 e il 2022 avrebbero percepito indebitamente circa 300 mila euro. Ed è stata scoperta una vera e propria discarica a cielo aperto da parte della Guardia di Finanza e scattato il sequestro. Auto, ma anche apparecchiature elettroniche, rifiuti speciali e pericolosi, stoccati senza permesso in un'area verde ridotto ormai a discarica abusiva. La Guardia di Finanza, così sottoposto a sequestro penale, uno spazio di circa 1300 metri quadri nell'Aretino, in Valtiberina, è denunciato il legale rappresentante dell'azienda a cui era riconducibile il terreno per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. L'operazione è stata effettuata dai militari del Comando Provinciale di Arezzo in collaborazione con il Dipartimento Aretino di Arpat. Il terreno, divenuto deposito di quei rifiuti, scoperto e non impermeabilizzato, è stato individuato a seguito di una mappatura del territorio effettuata dalla sezione aerea delle Fiamme Gialle di Pisa, tramite specifici sorvoli a bordo di elicotteri equipaggiati con tecnologia di ultimissima generazione. I finanzieri, con la collaborazione dei tecnici Arpat, hanno poi appurato che i rifiuti erano anche speciali, macchinari ed apparecchiature deteriorate, obsolete e pericolosi, veicoli pesanti a motore non bonificati e RAI che sarebbero dovuti essere invece avviati alle operazioni di smaltimento. Un incidente stradale si è verificato questa mattina nei pressi di Vogognano, frazione del comune di Subbiano, quindi uno dei primi comuni del Casentino. L'episodio è avvenuto lungo la regionale 71 nei pressi dello svincolo per il Paese. Secondo i primi accertamenti sono state tre le auto a scontrarsi sul posto, i sanitari dell'emergenza urgenza con un'ambulanza e ovviamente le forze dell'ordine per il traffico e soprattutto i rilievi di legge. E siamo alla cronaca giudiziaria, avviso di chiusura indagini per sette tifosi romanisti che si resero protagonisti della maxirissa, la ricorderete l'8 gennaio del 2023, lungo il tratto aretino dell'autosole. I PM Marco Dioni e Chiara Pistolesi ipotizzano i reati di rissa, lancio di oggetti pericolosi e possesso di oggetti atti ad offendere, mentre cade il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti per il quale è stata chiesta l'archiviazione. Intanto proseguono le indagini anche sulla zuffa che era avvenuta pochi giorni fa nell'area di sosta di San Giovanni Valdarno, sempre lungo l'autosole, che aveva visto protagonisti i gruppi di tifosi di Juventus e Atalanta che stavano raggiungendo la capitale in vista della finale di Coppa Italia, poi andata ad appannaggio dei bianconeri. È nell'aretino uno dei primi risarcimenti per i crimini nazifascisti, ce lo racconta Chiara Sadotti. Il tema dei risarcimenti era stato centrale anche nella visita della presidente Mattarella Civitella lo scorso 25 aprile e adesso, ad 80 anni di distanza, arriva il primo ristoro per gli eredi delle vittime dell'eccidio. Si tratta della famiglia di Metello Ricciarini, uno dei 244 trucidati in quel drammatico 29 giugno 1944, che si vedrà liquidare circa 900 mila euro dal fondo PNRR aperto presso il MEF, come disposto dalla sentenza del 2008 di condanna all'ergassolo di Max Josef Milde, ritenuto unico colpevole dell'eccidio. Non è la questione economica che ci interessa in prima battuta, ma l'idea che dopo 20 anni praticamente, da che abbiamo iniziato questa pratica, finalmente siamo riusciti ad ottenere, seppur dall'Italia e non dalla Germania, un risarcimento che spero nel giro ora di un paio di mesi verrà erogato. Il nipote di Ricciarini, l'avvocato aretino Roberto Alboni, fu l'unico davanti al Tribunale Militare della Spezia nel 2018 a citare in giudizio la Germania come responsabile civile. Lo Stato tedesco fu guadagnato al risarcimento, ma si è sempre rifiutato di pagare. Un tiro e molla andato avanti per anni sino all'istituzione di un fondo da parte dello Stato italiano, ma poi è intervenuta l'avvocatura di Stato che obietta la prescrizione civile. L'eccezione di prescrizione l'avevano formulata anche nel mio caso, però ho potuto dimostrare che la prescrizione era stata interrotta, l'avvocatura ne ha dovuto prendere atto e con il parere del 30 di aprile ha detto sì, qui non c'è la prescrizione e dobbiamo pagare. Dopo il primo sì potrebbero aprirsi nuovi scenari anche per gli eredi delle altre vittime, una battaglia contro la prescrizione che non può verificarsi, sottolinea il legale, nel caso di reati contro l'umanità. Secondo quello che scrivono i giudici e secondo quello che credo sia un criterio che risponde a esigenze di giustizia universali. E a proposito di Civitella in Valdichiana, la strage domani verrà ricordata a lungo appunto i luoghi in cui si consumò nel 1944 perché torna la Marcia per la Pace. In cammino per la pace da San Pancrazio a Civitella. Torna sabato 18 maggio la Marcia per la Pace che coinvolgerà anche quest'anno gli studenti degli istituti comprensivi del territorio e i comuni stragizzati della Toscana, regione che pagò un prezzo altissimo di vita umane. Gli ecidi concentrati soprattutto tra l'aprile e l'agosto del 1944 furono più di 280, i comuni interessati 83 e i morti tra i civili furono circa 4.500. Iniziativa e ricordo delle 244 vittime civili dell'ecidio nazifascista del 29 giugno del 1944 che si svolse lungo la strada che collega i luoghi della strage dei due territori comunali in un percorso di circa 9 chilometri da San Pancrazio condurrà fino a Civitella, quello stesso tracciato in cui le truppe della divisione Hermann Göring sparsero sangue di uomini, donne e bambini è organizzata dalle amministrazioni comunali di Bucina Civitella in Valdichiana dal coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace con l'adesione della regione Toscana alla provincia di Arezzo, Anci Nazionale ed Anci Toscana nell'ambito delle celebrazioni programmate nell'ottantesimo anniversario dell'ecidio di Civitella, Corni e San Pancrazio e nel 79esimo anniversario della Liberazione. Parliamo adesso invece di trasporti, non convincono le proposte di RFI per appunto calmerare gli importanti disagi subiti dai pendolari, non convincono, lo dicevamo, il Comitato Pendolari del Valdarno. Il servizio. Non sono per niente convinti i pendolari della vallata in merito alle proposte arrivate da RFI e Trani Italia per alcuni treni del Valdarno ne sono state bocciate infatti 3 su 5. Il sondaggio è stato effettuato dal Comitato Pendolari Valdarno direttissima attraverso il gruppo Facebook. Le proposte di modifica di orari e tratte per alcuni treni del Valdarno erano state presentate a sindaci assessori e al Comitato Pendolari durante l'incontro dello scorso 16 aprile nella sede della regione Toscana alla presenza dell'assessore Baccelli. I primi due treni oggetto del sondaggio sono della tratta Firenze Chiusi 419-4109 con partenza a metà pomeriggio alle 17.02 e alle 17.14 rispettivamente per i quali RFI aveva fatto due proposte con inversione dei servizi e tratte proposta respinta dall'87% dei pendolari. Sulla seconda proposta invece c'è il parere favorevole del 78% dei pendolari e prevede il posticipo della partenza di entrambi i treni 10 minuti 1 e 4 il secondo con la conferma delle tratte dei tempi di percorrenza il primo sulla direttissima sino ad Arezzo il secondo con le fermate del Valdarno. Il terzo treno del sondaggio è tra i più affollati dai pendolari e della tratta Firenze-Foligno il 4085 delle 18.14 di cui viene proposto il posticipo della partenza di 4 minuti con la conferma della percorrenza sempre in direttissima sino a Figline poi le fermate in Valdarno. La proposta ha raccolto l'87% dei consensi dei pendolari. L'ultima parte del sondaggio riguardava i treni 4070 da Foligno e il 4092 da Arezzo con arrivi attuali a Firenze rispettivamente alle 8.38 e alle 8.52 se puntuali. Le proposte bocciate dai pendolari prevedevano la conferma degli attuali percorsi dei tempi di percorrenza con la grossa novità della fermata prolungata ad Arezzo e poi il posticipo dell'arrivo a Santa Maria Novella. Le proposte dunque non convincono in gran parte i pendolari. Alla riunione del 16 aprile, afferma Maurizio Dare, portavoce del Comitato Pendolari, si è infatti chiesto all'assessore Baccelli nuove proposte di RFI di modifiche riguardanti però i treni alta velocità che interferiscono con i regionali così da ridurre con più probabilità gli inchini e i ritardi dei pendolari. E adesso torniamo invece in città parlando del quartiere di Saione intanto con questo primo servizio che riguarda il Consiglio Comunale Aperto che si è svolto proprio ieri sera, voluto dal Comitato di Piazza Saione che come sappiamo difende strenuamente la presenza degli alberi appunto in questa piazza. Devono essere preservati, c'è gente che si batte per avere del verde e a Arezzo si abbatte il verde, quindi è illogico. E quindi ci battiamo per la logicità e per la naturalezza della società. Il Comitato nato in difesa degli alberi presenti in Piazza Saione ad Arezzo non ha dubbi la probabilità che queste piante una volta ripiantumate durante i lavori di rifacimento della piazza possano morire è praticamente certa. Il trapianto abbiamo ancora chiesto ad altri esperti botanici il trapianto in questo periodo soprattutto e in queste condizioni non è efficace, morirebbero sicuramente. Sulla questione si è tenuto un Consiglio Comunale Aperto è stata Simona Coradeschi a spiegare le ragioni dei residenti e c'è anche un'idea di progetto alternativo. Mantenere quella aiuola verde con gli alberi e non spostare il tracciato di via Guelfa e anche non impermeabilizzare la piazza così come viene proposto. Questa è una bozza ovviamente di progetto, non è un progetto, non ha legati, non ha studi di fattibilità, però è un'idea che noi vorremmo proporre per evitare che questa zona qui della piazza, quella davanti al palazzo Ex Copp, venga impegnata da una strada e rimanga comunque a disposizione della chiesa un sagrato abbastanza ampio qui davanti e volendo anche un'altra ulteriore zona verde. Il sindaco Alessandro Ghinelli ha confermato un'apertura da parte dell'amministrazione comunale evidentemente ha detto nel suo intervento se c'è questa forte reazione significa che qualcosa abbiamo sbagliato. Il 22 maggio ci sarà il prossimo incontro tra il comitato e l'amministrazione comunale e forse sarà ammessa la parola fine. Se proprio si deve fare lo si faccia con il minimo impatto possibile di asfalto, si mantenga una viabilità che non sia peggiorativa di quella che c'è e magari si riesce anche a introdurci qualcosa sulla mobilità lenta tipo piste ciclabili. Quindi questo diciamo molto brevemente la nostra posizione. E sempre il quartiere di Saione sarà protagonista domenica 26 maggio della terza edizione di Saione Mob. L'evento si terrà dalle 9 alle 19 avrà davvero un'offerta molto vasta con mostre, spettacoli, negozi aperti e ovviamente il mercatino delle pulci attività didattiche, sport e gioco. Il servizio. Una grande festa per un quartiere che si ritrova comunità. Sì, è il terzo anno e siamo molto soddisfatti, molto contenti. La Confesercenti è sempre presente, vicina al quartiere di Saione. Sono tante le istituzioni, i soggetti, la rete di persone che collaborano per questa festa, una festa di quartiere. I negozi saranno aperti, partecipano e contribuiscono con la loro attività anche sulla strada per rendere viva la giornata. Quindi tutta la cittadinanza è invitata a venire, a fare acquisti, a scoprire tutte le attività e l'intrattenimento che ci sarà domenica 26 in Via Vittorio Veneto e nelle strade intorno. Insomma, tutto il quartiere è coinvolto. L'idea di avere ovviamente spazi disponibili per l'attività di inclusione sociale, di animazione, di giochi, di mercato. Diciamo tutto quello che rende una comunità viva, partecipe, coesa e che fa sentire tutti parte di quella comunità. Ecco, questa idea dell'inclusione sociale attiva è per noi l'elemento centrale che ci ha spinto anche a puntare molto sul Saione Mob e questa terza edizione ci auguriamo sia ancora più grande già dei due precedenti che avevano avuto un grande successo. Sì, siamo alla terza edizione e diciamo che questa comunità educante si fa sempre più grande e inclusiva. Quest'anno il programma è fittissimo, si parte sempre dalla scuola con tante attività di arte, teatro, la partecipazione di Sosta Palmizzi, officine della cultura e letture ad altavoce e subito accanto quest'anno c'è la grande novità della piazzetta fuori Saione e piazza alla cultura. Abbiamo, e dico cultura perché abbiamo voluto veramente usare questa parola per intendere un po' quel senso di coltivazione che possono fare tante realtà creative, culturali del territorio partendo anche dal basso ma che poi sono quelle che attivamente fanno in modo insomma che qualcuno poi questa cultura la viva e la porti avanti e ci saranno i mago, il Saione del libro torna a grande richiesta e The Sound of Zion che è il collettivo dei ragazzi che vivono nel quartiere. Tutti pazzi per George, oggi molti gli aretini che si sono recati nei pressi del Teatro Petrarca di Arezzo perché come ormai annunciato da alcuni giorni è appunto stato questo il set di alcune riprese per la nuova pellicola che vede protagonista non solo George Clooney ma altre star di Hollywood. Il servizio di Chiara Sadotti. George Clooney è arrivato attorno alle 10, ha salutato i fan che lo attendevano anche da ore e poi è entrato nel Teatro Petrarca blindatissimo per l'occasione. Ad Arezzo sono state infatti girate alcune scene del film J. Kelly diretto da Noah Baumbach. Il teatro aretino è stato scelto come set. Un'emozione grandissima, ho atteso più di due ore, due ore e mezzo ma avrei atteso tutto il giorno. Un'emozione grandissima, un grandissimo attore e è stato molto gentile anche quando è sceso di macchina, si è voltato, ha detto buongiorno, molto carino veramente, un grandissimo attore. A procedere Clooney, un'altra stella hollywoodiana, Adam Sandler, che sceso da un vano nero si è anche concesso per qualche selfie. Io ho avuto l'onore e l'onere diciamo di incontrare Adam Sandler sia a Montecatini che anche qui a Arezzo perché lui, come si può dire, è uno di noi, è uno di noi. Sono rimasto basito davanti a tutto ciò. Stiamo aspettando con grande attesa Giorgio e Adam e niente, siamo postati qui fuori nella speranza di vederlo. Quante ore li attendete? No, sono arrivati da poco. La nostra professoressa di Greco ci ha fatto il grande regalo di venire qui fuori e insomma di provare a incontrarlo, di fare questa esperienza. È stata poi la volta di Ayla Fisher, attrice australiana protagonista di numerose pellicole di successo come I Love Shopping. Nel film anche l'italiana Alba Rorvacher oltre ad altri attori. Dall'ingresso principale del teatro invece sono entrate le numerose comparse. L'area, accessibile ai curiosi, è stata comunque presidiata da agenti di polizia dello Stato, municipale e carabinieri, presenti anche i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco. Le riprese del film erano iniziate qualche settimana fa in provincia di Piacenza per poi spostarsi in Toscana. E il grande cinema arriva ad Arezzo anche domani perché c'è un altro set, quello della stazione di Pescaiola che appunto ospiterà le riprese del nuovo film di Gianni Amelio. Un film che riproporrà con grande maestria e attenzione i dolorosi anni del primo conflitto mondiale. Attesi ad Arezzo gli attori protagonisti come Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rossellini. Scocca in questo primo fine settimana la maxi area pedonale nel centro di Arezzo. La città dunque torna a riempirsi di tavoli all'aperto inizia appunto la stagione che si chiuderà poi sabato 14 settembre. Da adesso in poi dunque ogni fine settimana ad iniziare proprio dal venerdì l'area interdetta alle auto sarà dalle 19 alle 24 ed è esattamente quella che corre lungo Corso Italia da Via Roma al Duomo e arriva a Piazza Guido Monaco e Sant'Agostino. Nei mesi poi di giugno e luglio la zona si allargerà anche a Via Vittorio Veneto. Ed infine parliamo di sport. Giulia Poggia retina e giovanissima promessa del Fioretto ha conquistato il titolo ai campionati italiani Gold di Fioretto femminile emergendo come una delle più giovani e talentuose partecipanti della competizione. Ha concluso il girone preliminare con una serie di cinque vittorie e una sola sconfitta dimostrando subito il suo talento e la sua determinazione. Le sue prestazioni l'hanno portata ad affrontare il tabellone di eliminazione diretta come testa di serie numero 7. Con questa vittoria Giulia non solo ha conquistato il titolo nazionale ma ha anche confermato di essere una delle più promettenti giovani schermitrici del panorama italiano. Ed infine chiudiamo con una notizia che invece riguarda il basket. Un grande risultato per il gruppo Under 13 della scuola basket Arezzo guidato in panchina da Marco Evangelisti la formazione a Maranto si è aggiudicata la Coppa Toscana di categoria battendo nella Final Four di Paramance la prima la Dynamo Red Beards di Pistoia e poi in un tempo supplementare nella finale tiratissima il Val di Sieve. Complimenti dunque alla squadra appunto della nostra città. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale noi vi lasciamo però con la puntata della piazza speciale elezioni amministrative questa sera al microfono di Carlo Gabellini i contendenti per i comuni di Bibbiena e Lucignano. Buona visione allora grazie per l'ascolta arrivederci. a a a a a a a Grazie a tutti.